sono i tuoi veri genitori ti vogliono bene ti aspettavano sono qui perché mia madre sta male ma lei non sa come sta quando ne tiene 13 ma perché non posso tornare a casa che vi ho fatto che fai? sto scrivendo un racconto di che parla? ti lascia più tieno come me la mia fede è troppo scossa ormai ma prego siete pronti? tranquilli signore non ti succede niente domani andiamo al mare te l'ho venuta a controllare se mia sorella sta buona lei è della città ma che ti pensavi? che ti riprendeva? vuole solo proteggermi dove? ripeto chi lo sa venga ancora all'estate domani è un altro giorno si verrà non c'era non c'era